Atmosfera di elezioni a Battipaia nonostante lo spostamento della data a settembre oppure ad ottobre. Nella città della Zebra non si conoscono tutti i nomi dei candidati, anche se è stato aperto il comitato elettorale del centro-sinistra. Dovrebbe essere riconfermata l'attuale candidatura del sindaco di Battipaia, mentre negli altri partiti di centrodestra si sta lavorando alla costruzione di altre liste, tra cui quella appoggiata da Fratelli d'Italia. Resta ancora un laboratorio politico, ma oltre ai principali nomi, che dovrebbero partire con la campagna elettorale, si potrebbe ampliare il vendaglio dei candidati in un momento critico per la società di Battipaia, inserita nel contesto endemico. Proprio quest'ultimo problema, che durato da più di un anno, potrebbe apportare delle modifiche all'attuale assetto sociopolitico della città della Piana del Sile. Di conseguenza ulteriori soluzioni politiche potrebbero emergere nelle ultime ore per la creazione di liste civiche per far decidere il futuro di Battipaia.